Pochi giorni per rendere magici i prossimi tre anni. Fino al 6 gennaio, classe A e classe B con tre anni di RC auto inclusi. Scopri l'offerta. La regione va avanti, i sindaci della Valle del Sabato cominciano a dare segnali discordanti. Dopo a Tripalda e Manocalzati, che in consiglio comunale sottolineano il no al potenziamento dello stabilimento, è Montefredane a rendersi protagonista di una iniziativa di tutela ambientale. Il sindaco Valentino Tropeano ha chiesto alle fasce tricolori di a Tripalda, Manocalzati, Prata e Prato la Serra un incontro per lunedì prossimo volto a valutare iniziative da prendere insieme. Dall'invito non è stato escluso, anzi ci si augura possa essere presente e dettare le linee guida il comune di Avellino. La volontà della regione di autorizzare un trito vagliatore per la lavorazione dell'umido costituisce di per sé un atto che prevalica i territori, dichiara il sindaco di Montefredane Valentino Tropeano. Se l'intenzione è il risanamento ambientale, non è escluso, anzi è auspicabile che possa arrivare da parte dei comuni interessati un ricorso al TAR contro la decisione di regione e di ripini ambiente. Intanto Boccalone, manager della società provinciale dei rifiuti, intervistato dal ciriaco.it si dichiara disponibile a presenziare ad eventuali stati generali sulla Valle del Sabato per dimostrare, sottolinea, che non è l'impianto rifiuti ad inquinare. Prese di posizione e visioni diverse che senza ricorsi giudiziari non faranno altro che dare il via libera alla regione. A torto o a ragione non spetta a noi stabilirlo.